Sono prossimi a fondersi. Camille Flammarion, 1842-1925, astronomo, divulgatore scientifico francese, autore di più di 50 opere di astronomia e romanzi anticipatori della fantascienza, riferisce il caso di un ragazzo di circa 12 anni, Son Lame, che sotto il pergolato nel giardino di un amico, gli disse improvvisamente, quando sarò morto verrò a trovarti in questo pergolato. Mesi dopo l'amico faceva i compiti di scuola in quel luogo quando dì che un albero da frutta, che sovrastava la pergola, fu scosso fortemente, mentre numerosi frutti gli cadevano attorno. Spaventato fuggì e poco dopo ebbe la notizia che il giovane Son Lame, di cui ignorava la malattia, era trapassato. Perché? Commento. La storia del paranormale è densa di questi patti di manifestazione che si confermano quando i due sentire coinvolti nel patto, il supersite e il trapassato, sono prossimi a fondersi.